eccomi di nuovo a voi cerchio esseno a cura di dario ragusa alexander 49 58 eccomi di nuovo a voi vitaliano posso farti una domanda alexander certamente tu che stai sempre zitto zitto e poi emergi ti ascolto vitaliano volevo chiederti posso fare una ripresa di un fenomeno fisico con la videocamera alexander lo facciamo fare a ferraro certo tu dici di un apporto informazione vitaliano sì alexander per ora non so risponderti però dato che tu dimostri di essere un fedele e sincero ricercatore forse ti accontenteremo vitaliano ti ringrazio